D'Antonio Ascensori, professionisti dell'elevazione, senza limiti. www.dantonioascensori.it La Cavese domani giocherà sul campo del Paternò, nella sedicesima giornata del campionato di serie di Girone I, con inizio alle 14.30. È un big match perché la Cavese è terza con 31 punti, ma il Paternò è sesto a 28. Allo stadio Falcone-Borsellino i metelliani arriveranno a questo confronto avendo recuperato le energie spese domenica scorsa alla mezzia terme per fronteggiare al meglio un avversario quotato. E comunque proprio ieri sera i tifosi cavesi hanno ricevuto una notizia non favorevole a loro. Infatti la prefettura di Catania ha comunicato che per la gara Paternò-Cavese viene eliminato il settore ospiti, con divieto di acquistare i tagliandi ai residenti in provincia di Salerno e in Campania. Non è stata proprio avviata la vendita dei biglietti e ciò è spiegabile per la concomitanza della gara di Paternò con il derby Catania-Palermo, che impegnerebbe più forze dell'ordine. Ci sarà comunque la diretta televisiva su RTC Quartarete, che effettuerà il primo collegamento intorno alle 13.50. Mister Emanuele Troise ha presentato in questo modo la partita di domani. Dobbiamo essere ambiziosi, ambiziosi vuol dire che dobbiamo partire dall'ottima prestazione di La Mezzia e cercare di dare continuità e aggiungere qualcosa in più. Perché è quello che sto chiedendo ai ragazzi, hanno tanti margini di miglioramento, però l'obiettivo deve essere mettere quel qualcosa in più settimana dopo settimana. Dove si può far male al Paternò è una squadra che comunque, al di là del risultato infrasettimanale, sta facendo un ottimo campionato. È una squadra equilibrata e dovremmo essere bravi a prepararla un po' su tutti i fronti. La probabile formazione della Cavese per Paternò. Anatrella, Gabrielli e Palladino, Romizzi, Altobello e Viscomi, Carbonaro, Corigliano, Dias, Allegretti e Kosovan. Dovrebbe essere disponibile almeno per la panchina il nuovo arrivato, che è il centrocampista Domenico Aliperta. Difficilmente potranno giocare Potenza, D'Angelo e Bacio Terracino. In arrivo le convocazioni. Il giovanissimo centrocampista D'Amore è stato peraltro convocato per ostage della rappresentativa giovanile di Serie D, che si terrà mercoledì a Catanzaro. Probabile risposta del Paternò, allenato da Alfio Torrisi, Latella, Bisconti e Mangiameli, Palermo, Scoppetta e Bontempo, Danca, Rizzo, Camarà, Cangemi e Foderaro. L'arbitro di Paternò Cavese sarà il signor Dario Duzel di Castelfranco Veneto. I suoi assistenti saranno Mascali di Paola e Marucci di Rossano. Altre DD. Il turno di domani sarà praticamente monco, perché il FC Messina ha presentato formale rinuncia a disputare la gara con il Giarre ed è la seconda volta consecutiva. Quanto basta per sancire l'esclusione del club giallorosso dal campionato. Quindi tutte le partite, quelle già disputate dal FC Messina e quelle da disputare, vengono annullate, con un prevedibile rimescolamento nella parte alta della classifica e soprattutto in centro classifica. Vengono però rinviate per Covid tre partite, quella della capolista Gelbison con i Trapani, quella del Biancavilla in casa con la Santa Maria e quella che il Rende avrebbe dovuto giocare a San Luca. Confermata invece l'altra partita particolarmente attesa nella giornata, oltre a Paternò Cavese. Si tratta di Lamezia Terme a Cireale. Altra sfida di vertice.